Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, coda per traffico tra Pistoia e BV11A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto verso Firenze. Infipili, traffico sostenuto per rispostamenti mattutini tra Ginestra e La Strassiegna e tra La Strassiegna e Firenze Scandicci, tutto in direzione del capoluogo. A Firenze, traffico sostenuto sulla direttrice Porta al Prato, Fortezza, Piazza della Libertà, rallentamenti anche in zona Via Sestese e Viale 11 Agosto, sulla Via Bolognese e nella zona di Viale Europa. Nell'ambito dei cantieri tramvia, questa sera, dalle 21, lavori di asfaltatura in piazza Stazione, previsti restringimenti di carreggiata nella corsia da Piazza dell'Unità Italiana, a Largo Alinari. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!